Chi pensa che occuparsi di Brexit voglia dire soltanto mettere il naso in affari esteri dovrà ricredersi perché il naso sarà meglio metterlo soprattutto nel proprio portafogli. L'Italia si prepara a pagare il conto salato di questa uscita, 1,3 miliardi di euro all'anno secondo l'informativa riservata del governo spagnolo pubblicata dal quotidiano La Stampa. Il nostro paese infatti paga attualmente all'UE 17,7 miliardi che potrebbero arrivare a 19 nel momento in cui verranno a mancare quei 20 miliardi all'anno versati finora dal Regno Unito. Ma non basta, le aziende italiane che esportano oltre manica dovranno fare i conti con probabili nuovi dazzi e perdita di quote di mercato che in soldoni significa altro denaro perduto. Se qualcuno magari per voglia di rivalza volesse un po' pareggiare i conti andando a lavorare a Londra sappia che sarà molto più difficile. È probabile che neghino l'ingresso a chi non sia in grado di dimostrare che un lavoro lo abbia già trovato e che impongano delle quote in base al tipo di professione. Se lavorate nel settore bancario invece vi converrà forse restare nel bel paese sperando che i colossi finanziari che abbandoneranno la city londinese finiscano anche da noi. Chi proprio non riuscirà a fare a meno del Regno Unito prepari la valigia e vada pure ma solo in vacanza, approfittando di quella sterlina indebolita proprio dalla Brexit. Certo che anche in questo caso i risvolti negativi non mancherebbero. Per evitare troppi controlli una volta scesi dall'aereo sarà meglio portare il passaporto e prepararsi anche all'idea di una possibile nuova tassa d'ingresso. Insomma, per un verso o per l'altro il portafoglio non smetterà di piangere.